signore e signori siamo collegati con la piazza di busso dove fra pochi minuti si effettuerà una super intervista con l'uomo più pazzo del mondo il signor daniele de coimbra detto radiofolo questo uomo è un uomo venuto dalla pioggia tutti lo chiamano rayman sentite si sente la radio e nello stesso tempo parla direttamente con la radio sentitelo signore e signori mi sembra un telegiornale silenzio guarda guarda quel daniel musk after she daniele la televisione danni danni parla madame si messo che sarà di mano ma con manuccio oi 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 la prima io il 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 E qui c'è l'unica, l'unica, l'unica qualità, la città, la sala con il microfono. E l'unica, poi non va, non va. Questo è un fattivo, non è un sermone di nuovo. Dio vedete, c'è un lindo scendio di sale, c'è il ristorante di sale. Non offrire i locali, ma c'è il mito con il mercolio che è l'unica. Perciò, gli altri passi non mangiati, dopo una cucina, un picco, un soffio di città, e pregando in piedi e piedi, ristorante di ammissà, con d'alio a cuore a pace, in là, a pochi chilometri del sale. E tutti gli accassi sono in portà. Da dietro il caso, con il caso, il medico, scegli con tutta la priorità, e insieme a miglior l'autista Fratelli Valentini. Fratelli Valentini, produzione di signori, l'interni e l'eserro. Porta e finezza del dino, portongini, legno, guaceno, 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 guaceno e guaceno. L'entica, l'antica, la benissima, la benissima, il meccone, con una relazione in leguità. Indice del legno, fratelli Valentino, confudute la mumma di caltabria, c'è il petrosa, fratelli, il tetto e il sale. Signore e signori, stiamo inquadrando una vasta esposizione di scarpe, pantofole, scarpette, scarponi, stivaline e stivalette, esposte qui al mercatone di busso. Il proprietario, il signor Donato, proveniente da Fossaldo, frazione di busso. Senti a quel Daniele come canta con l'equipo 84. Ah, sto pogendo. Senti a quel Daniele, un bel Daniele, il po' ralegino. L'entica, il pane, il porto un guaceno, qui lo con Bedin, il po' ralegino. Il pane, 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 il pane. Il pane, il pane, il pane, il pane. La mia città è tutta mia, tutta mia la città, un dazeno che conosce tutta mia la città, buone cazzo e buone che in amore. Assistita all'esibizione delle nuove proposte del Festival di Busso, il signor Danny, Danny per gli amici di Daniele.